Ciao bimbi a fili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un video diverso in quanto ho deciso di fare un video in cui vi parlo dei miei personaggi secondari preferiti. Sapete che nei libri di solito, oltre ai protagonisti veri e propri, in tutti i tipi di libri, dai fantasy, distopici, contemporanei, romance, ci sono anche i personaggi secondari che possono essere più o meno importanti ai fini della trama, più o meno analizzati nel corso dei libri o nel corso del libro singolo in caso di trattino stand alone. E io spesso e volentieri mi sono ritrovata ad apprezzare tantissimo questi personaggi, mentre in alcuni libri magari ho come non apprezzato il fatto che alcuni autori non abbiano dato abbastanza importanza a molti personaggi secondari, in altri, che sono tutti quelli che sono attorno a me, voi non potete vedere, ma sono circondata da libri, ho apprezzato tantissimo alcuni personaggi secondari che secondo me sono stati più o meno approfonditi e alcuni sono davvero fondamentali ai fini della trama. Non andrò in ordine perché mettendovi prima davanti alla libreria ho preso tutti i libri di cui ricordavo i personaggi secondari, sicuramente ne ho dimenticati alcuni, quindi perdonatemi i miei amati personaggi secondari, e li ho messi qui attorno a me, e quindi andrò più o meno in ordine a come li ho sistemati mentre li mettevo qui appunto. Sono davvero tantissimi, quindi spero di fare una cosa breve e coincisa. Il primo personaggio secondario che in realtà mi è venuto quasi subito in mente, di cui ho preso il libro, fa parte della trilogia di Cuore d'Inchiostro, Velleno d'Inchiostro e Albea d'Inchiostro di Cornelia Funke, che io continuo a suggerirvi e pregarvi di leggere perché è bellissima, che è Dita di Polvere. Dita di Polvere che è un personaggio secondario perché alla fine non è il protagonista, la protagonista Megine, il padre Moe, ma che troviamo fin dall'inizio di questo libro e che cresce moltissimo, uno di quei personaggi secondari che viene analizzato, a cui viene data importanza nei tre libri della trilogia, è che cresce molto anche lui e che ho trovato indispensabile per la trama e che io ho appresato tantissimo. Quindi Dita di Polvere è uno dei motivi per cui ho amato questa trilogia e penso che lui sia proprio il mio personaggio preferito di tutta la trilogia, quando il mio gatto non comparirà più nei miei video. Chissà. Comunque, questo è il primo. Il secondo personaggio che vi cito è Gabriel della trilogia di Half Bad, Half Wild e Half Lost. Gabriel comparirà solo nel secondo libro di questa trilogia, ma diventa un personaggio molto importante, soprattutto per la vita di Nathan, il nostro protagonista. Un personaggio che viene analizzato ma in realtà neanche più di tanto, ma che comunque sarà veramente fondamentale per la vita di Nathan e per la trama in particolare. E anche in questo caso è il mio personaggio preferito, pur essendo secondario, è quello che ho apprezzato di più all'interno di tutta la trilogia. Di recente ho letto Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. In questo caso, nonostante comunque Simon e Blue restino i miei personaggi preferiti, ho apprezzato tantissimo uno dei personaggi secondari, ovvero Abby, una delle migliori amiche di Simon, che lo aiuta tantissimo durante questa storia, che è sempre presente e che al contrario di altri personaggi secondari, in particolare Lea, un'altra migliore amica di Simon, che non sopportavo, ho apprezzato tantissimo e il libro mi è piaciuto proprio anche grazie alla sua presenza. Non è un personaggio approfondito, o comunque non tanto quanto ovviamente i protagonisti, però la sua presenza dà al libro quel qualcosa in più che me l'ha fatto apprezzare molto. Un altro libro che vi cito è Carry On di Rainbow Rowell. In questo caso i miei protagonisti, i miei protagonisti, i miei personaggi preferiti, sono appunto i protagonisti, ovvero Buzz e Simon, ma comunque ciò che ho apprezzato moltissimo di questo libro è stato anche Penelope. La migliore amica di Simon, che è, come dice anche la mia amica Eleana, è un Hermione 2.0, una ragazza maga che studia, è bravissima, ma soprattutto una ottima ottima amica per Simon, anche in parte poi per Buzz, e ho apprezzato tantissimo il suo personaggio, nonostante sia secondario, nonostante in questo caso non sia propriamente molto approfondito, l'ho amata molto, al contrario invece di Agatha, che invece non mi è piaciuta. Passo ora a Percy Jackson. In realtà in tutta la prima saga, diciamo, di Percy Jackson, Ellie Day dell'Olimpo di Rick Rae Jordan, ho amato moltissimo come personaggi secondari, che secondo me sono stati benissimo trattati dal nostro amato zio Rick, le divinità. In particolare ho amato Ade tantissimo, e soprattutto in questi primi libri noi cominciamo a conoscere Nico, che diventerà uno dei, diciamo, protagonisti nell'altra saga, ma che qui resta un personaggio secondario, e che comunque io ho apprezzato molto, e che, diciamo, mi ha fatta innamorare moltissimo di lui, fin da quando era semplicemente un personaggio secondario. Le Cronache Lunari, invece, tutti i personaggi ovviamente sono i miei preferiti, quelli principali, quindi Sindere e Kai, Cress e Torn, Scarlet e Wolf, Winter e Jacin, ma un personaggio secondario che è stata fin da subito una delle mie preferite di questa trilogia, che è questa trilogia di questa saga, e che finalmente ha le sue graphic novel dedicate a lei, Wires and Earth, è Ni-Iko. Iko è un personaggio bellissimo, una piccola cyborg, che sarà molto, molto, molto importante fin dal primo libro, e che non si può non amare per la sua personalità, per il suo umorismo, per il suo modo di essere, e io l'ho apprezzata tantissimo. Uno dei miei personaggi preferiti in assoluto di questa saga meravigliosa è Senz'altro Iko, che comunque, almeno in questi libri, rimane un qualcosa di secondario, ma che è ben analizzata e che è importantissima ai fini della trama. Arriviamo adesso al mio amato e corto Mist and Fury di Sarah J. Maas, perché in questo libro, come probabilmente ormai sanno tutti, noi andiamo a conoscere la corte della notte di Rhysand, e oltre a conoscere Rhysand meglio, conosciamo tantissimi personaggi secondari che fanno parte della sua corte, e io li amo tutti, tutti. Secondo me questo libro è bello proprio anche grazie a loro, quindi Cassian e Azriel, che sono un po' i secondi rispetto a Rhysand, così come Morrigan e Amren, che fanno parte sempre della corte della notte, sono due personaggi femminili secondari che vengono molto ben analizzate, in particolare più Morrigan che Amren. Amren è un po' avvolta nel mistero ancora, però sono sensazionali, poi Sarah J. Maas comunque non lascia mai niente fuori da questo libro, nel senso che sono trattate molto bene anche loro, pur essendo secondari, così come Cassian e Azriel sono dei personaggi meravigliosi, e penso che la corte della notte sia sensazionale anche per loro. Altro personaggio secondario che io ho amato tantissimo, che fa parte della trilogia di Darker Shadow Magic, Gathering of Shadows e Conjuring of Light, che conosciamo solo nel secondo libro, è Alucard, il capitano Alucard, che mi ha ricordato molto il capitano Thorne delle Cronache Lunarie, che io apprezzo moltissimo, in quanto è il tipico personaggio di cui mi innamoro, e di cui vi parlerò anche a breve con un altro personaggio, perché è quello che ha il senso dell'umorismo, gioca molto con se stesso, con gli altri, che però è comunque un badass, vero e proprio. Altro personaggio secondario molto simile ad Alucard, l'ho trovato nella trilogia dei Grisha, Shadow and Bone, Siege and Storm, e Rina Rising di Leigh Bardugo con Nicolai. Anche in questo caso conosciamo il personaggio solo nel secondo libro, ma è diventato il mio personaggio preferito in assoluto. È un personaggio secondario, in quanto anche e soprattutto nel terzo libro, a volte non è per niente presente, ma è ben sviluppato, conosciamo la sua storia, conosciamo la sua personalità, che è sensazionale, e io mi sono totalmente innamorata di lui, pur essendo appunto secondario, rimane uno dei miei personaggi preferiti, di cui io abbia mai letto. In Shatter Me ho apprezzato tantissimo Kenji, che è un personaggio che conosciamo meglio solo, diciamo, dal secondo libro, sebbene sia presente anche in questo, e che è fondamentale per la vita del nostro protagonista. È secondario, non è ben approfondito, in quanto non conosciamo quasi nulla della sua vita, però è davvero fondamentale ai fini della trama, e sarà fondamentale soprattutto per la nostra amata Juliet. Tornando allo zio Rick, Magnus Chase, e comunque tutti i libri di Magnus Chase usciti fino ad ora, che sono purtroppo solo due, a breve, a breve, prossimo anno avremo il terzo, ho amato tantissimo i due personaggi secondari, che saranno sempre presenti, soprattutto ben caratterizzati, e di cui si scoprirà molto di più, soprattutto anche nel secondo libro, Blitz e Hearthstone, che sono un elfo e un nano, mettiamola così, che aiutano moltissimo Magnus nelle sue avventure, e io li ho amati, e di scippo, tra l'altro, quindi disagio a livelli allucinanti, però sono bellissimi, sono secondari, ma sono qualcosa di fondamentale in questi libri. Arriviamo alla nostra amata Cassandra Clare, perché vi devo citare, innanzitutto per The Mortal Instruments, vi ho preso City of Evelyn Fire, ma in realtà in tutta la saga di The Mortal Instruments, io ho apprezzato tantissimo Luke, Luke che alla fine è un personaggio secondario, ma che io amavo moltissimo, poi sono sempre stata affascinata comunque dal mondo dei licantropi e tutto il resto, quindi mi piaceva moltissimo leggere di Luke, così come ho apprezzato molto 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 Ragnor Fell e Raphael, che sono alla fine i due compagni di merende di Magnus Bane, quindi loro decisamente sono dei personaggi di cui amavo tantissimo leggere all'interno di questa saga, che facevano un po' diciamo spezzare la routine dell'andare a seguire i protagonisti principali, quindi Claire e Jace, Alec e Magnus, Isabel e Simon, Sebastian, mi piaceva molto che ci fossero anche dei momenti dedicati a loro. Restando con Cassandra Claire, le origini di Infernal Devices, vi ho preso l'angelo, ma in tutta la trilogia, io ho apprezzato moltissimo, oltre ai nostri appunto ovviamente Will, Jam e Tessa, tutti gli altri personaggi secondari in realtà, in particolare Sophie, tantissimo, in particolare Henry, insomma la loro coppia è sensazionale, così come i fratelli Lightwood, Gideon e Gabriel, mi sono piaciuti tantissimo anche i rapporti che loro avranno poi con gli altri personaggi, e soprattutto anche Cecilia Herondale mi è piaciuta tantissimo, quindi anche in questo caso amavo leggere di questi personaggi secondari, staccandomi un po' da Will, Jam e Tessa e dai loro mille problemi, e penso che comunque Cassandra Claire sia brava proprio nel creare anche i personaggi secondari, e lo ha fatto anche con Lady Midnight, perché in questo caso invece vi cito una sola, ovvero Cristina, perché Cristina è fondamentale per questo libro, e l'ho amata tantissimo, sia come amica di Emma, sia come altro, chi ha letto sa, e mi è piaciuta tantissimo, io l'ho apprezzata veramente, veramente tanto, e sono contenta che sia presente come personaggio secondario. Infine le ultime due che vi devo citare, andiamo ovviamente con il classico Harry Potter, in Harry Potter in realtà in tutta la saga io ho apprezzato praticamente tutti i personaggi, ma in particolare i secondari che più ho amato sono stati i fratelli Weasley, tantissimo, i malandrini Sirius, Remus, non Peter, e Luna e Nevi, sono questi personaggi insieme anche a Ginny in realtà, di cui amavo leggere, e di cui speravo ci fosse sempre di più in realtà, però comunque sono dei personaggi secondari veramente fondamentali, ovviamente lo sappiamo, e mi piacciono tutti. Lasciato per ultimo il personaggio secondario, colui che non è il protagonista di questa saga meravigliosa, che ha scritto il papà del fantasy, ma che è uno dei miei personaggi preferiti, di tutta la mia vita, che è assolutamente unico, e se non ci fosse stato lui, noi adesso saremmo tutti sotto al regno di Sauron, ovvero del signore degli anelli, del nostro amato Tolkien, Sam Visegenji, Sam è uno degli Hobbit, migliore amico di Frodo Baggins, nonché il protagonista vero e proprio della storia, ma senza Sam, Frodo sarebbe morto, praticamente subito, quindi io credo che Sam sia il vero e proprio eroe della storia, insieme ovviamente anche ad Aragorn, però Sam è alla fine un personaggio secondario, che noi seguiamo sempre e solo grazie a Frodo, all'avventura di Frodo, ma senza il quale non avremmo la trama che abbiamo avuto, Sam è fedele, Sam è buono, è coraggioso, è forte, e ha fatto tutto solo per salvare il suo migliore amico, quindi credo che questo sia il più bel personaggio secondario di cui io abbia mai letto, e non credo che nessuno potrà mai superare la bellezza di Sam Visegenji. Bene, questi miei molti personaggi secondari preferiti, in realtà sicuramente ne ho anche altri, ma non volevo prendere tutta la mia libreria e portarvela qui, comunque questi decisamente sono quelli che preferisco di più, il primo posto nel mio cuore lo avrà sempre Sam Visegenji. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, in realtà avevo in mente di fare anche altre tipologie, tipo personaggi femminili preferiti e altre cose, quindi fatemelo sapere, fatemi sapere anche quali sono i vostri personaggi secondari preferiti, vi ricordo se vi va che il canale qui sotto nell'infobox ha tutti gli altri vari miei social, se vi va ad iscrivervi c'è la campanellina per seguire bene i miei video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!